Buonasera, saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando e vedendo tramite webinar e tramite anche Facebook. Voi sapete che abbiamo già realizzato due serate, la prima per approfondire con il vice ministro Picchetto le tematiche del piano nazionale di rilancio e resilienza e la seconda con l'onorevole Zangrillo, l'onorevole Porchietto e altri, l'onorevole Roberto Rosso, le tematiche del lavoro, soprattutto quelle che sono connesse anche alle riforme che il governo Draghi sta impostando proprio per rendere più facile l'incontro tra la domanda e l'offerta di posti di lavoro e anche le politiche attive del lavoro unite alla formazione professionale. Questa sera andiamo proprio direttamente agli interessi diretti degli amministratori eletti negli enti locali, siano essi consiglieri, assessori o sindaci, perché in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi è cresciuta anche la preoccupazione negli amministratori in ordine a quelle che sono le strategie di controllo da parte ad esempio della Forte dei Conti o diciamo altre problematiche di responsabilità che poi emergono durante l'attività amministrativa nel quinquennio. Per cui sappiamo che ci sono delle responsabilità distinte tra quelli che sono gli amministratori, cioè gli eletti, e coloro che sono invece i veri operatori diciamo all'interno dei comuni, cioè i funzionari e i dirigenti. Però ecco, dobbiamo anche subito dire, e il relatore lo sanno benissimo, qual è la situazione variegata che abbiamo di fronte. Perché se è facile distinguere il ruolo tra eletto e funzionario nel comune medio grosso, nei comuni piccoli le situazioni si complicano. Si complicano anche perché la figura del segretario comunale, che comunque è l'antesignano della certificazione, della regolarità, almeno con l'espressione dei pareri, però nei piccoli comuni i segretari possono, essendo il numero ridotto, devono reggere parecchi comuni e quindi molte volte i sindaci o gli amministratori, gli assessori si trovano di fatto a dover assolvere funzioni operative che da altre parti nei comuni maggiori sono molto ben codificate e suddivise tra eletti e funzionari. Ora abbiamo detto mettiamo, diciamo, utilizziamo la disponibilità che a me personalmente aveva dato il professor Massimo Chiena, che è diciamo ordinario di diritto amministrativo nell'università italiana e oltre che avvocato del foro di Torino, dove ovviamente segue tutte queste tematiche che possono interessare il pubblico amministratore, TAR, Corte dei Conti e quant'altro, ha dato la disponibilità a svolgere una comunicazione, diciamo, di informazione agli amministratori locali. Naturalmente questo è il primo step, poi vedremo se la cosa si può in qualche modo anche ampliare. E poi siamo passati sul campo, sul campo operativo abbiamo la dottoressa Francesca Ganci, che è la segretaria generale del comune di Alessandria, è stata anche per un certo periodo segretaria generale della provincia di Alessandria, è comunque segretaria anche in altri comuni del circondario alessandrino, viene da esperienze anche estrarregionali, dove in qualche modo è stata appunto segretaria di comuni, province, quindi ha una lunga esperienza in materia e può ovviamente dare il suo parere. E poi proprio in prima linea abbiamo l'avvocato Paolo Borrasio, che di professione fa l'avvocato, ma ovviamente fa anche l'assessore comunale ad Alessandria e ha dovuto affrontare situazioni anche un po' difficili, per esempio la famosa questione Aral, ma poi eventualmente sarà lui a citarla, e poi è stato anche in precedenza il predecessore di Gianluca Colletti come sindaco di Castelletto Monferrato. Quindi diciamo che c'è un parterre, un cocktail di esperienze che dall'università arriva fino alle situazioni operative. È chiaro che diciamo in questi anni, in questi ultimi vent'anni abbiamo visto tanti cambiamenti. Prima io mi ricordo all'inizio della mia attività amministrativa c'era il comitato regionale di controllo, il famoso Correco, che intercettava quasi tutti gli atti, non che li guardasse tutti, però li dovevi mandare, c'erano venti giorni di tempo che potevano fare osservazioni, alcuni atti andavano comunque esaminati e validati dal Correco stesso. Quindi c'era comunque un filtro. Oggi come oggi abbiamo il revisore dei conti o il collegio di revisione e naturalmente poi alla fine, quindi a volte, come si dice tra virgolette a babbo morto, arriva il controllo da parte della Correco dei Conti con tutta una serie di avvisi che arrivano dagli amministratori che sono fonte di preoccupazione. Quindi noi adesso andremo ad una fase nella quale chiederemo a tanti nostri concittadini di candidarsi. Ovviamente in democrazia è giusto che tutti gli strati sociali possano concorrere alla gestione della cosa pubblica, si possono candidare, possono essere eletti. Però è anche giusto che vengano informati e supportati anche dai partiti che poi sono coloro che hanno come compito quello di indicare la linea politica e anche fare la selezione della classe dirigente, che possono essere informati di qual è il quadro normativo nel quale dovranno muoversi e di conseguenza non dico a cosa possono andare incontro perché se uno amministra bene e tiene il contatto con la gente e quant'altro non c'è da preoccuparsi più di tanto. Però delle volte non conoscendo bene il quadro si possono anche commettere in buona fede degli errori oppure avere anche delle esperienze non tutte positive. Allora io credo di avere in qualche modo inquadrato anche se sommariamente la problematica passerei a questo punto la linea a Gianluca Colletti che ringrazio perché per l'ennesima volta ovviamente lui è il nostro responsabile enti locali ma però personalmente si prodiga per coordinare questo dibattito quindi Gianluca a te la parola. Grazie ancora ai relatori. Grazie a te Ugo, mi unisco ovviamente ringraziamente a tutti i nostri auterevoli offiti di questa sera che sicuramente potranno arricchire questo ennesimo webinar Ugo come hai detto bene te, questa sera il nostro titolo è la responsabilità amministrativa negli enti locali, ecco anche un po' da amministratore comunale di per sé alcune volte sinceramente viene difficile interpretare quelle che sono le norme magari capire anche i limiti che stanno a capo di un amministratore comunale e magari a quello di un funzionario o alcune volte anche viceversa ecco quindi credo che la tematica sia veramente ampia considerando il fatto che nel nostro ordinamento ormai da tempo ecco si sono diciamo così stratificate diversi ordini, diverse norme che di fatto in nessun modo attengono a quella che l'amministrazione odierna ha segnato ai comuni e quindi ha ruolo dei sindaci odierni, ecco c'è stato un cambiamento di impatto nel tempo però per alcuni versi ecco non si è magari fatto fronte a rivedere quello che ho citato appunto prima, la normativa o tanto meno gli ogbili e quant'altro ma ne parliamo subito con un grandissimo ospite, il professor Massimo Chiena l'ha introdotto Ugo, io quindi non ruberei a lui da tempo ma lascerei la parola per ascoltarlo e magari dopo magari ricevere delle domande e a cui dare risposte ricordo innanzitutto che c'è una sezione domande e risposte dove tutti gli spettatori ovviamente possono rivolgersi ai relatori. Grazie mille, prego professore Grazie dottore, grazie anche all'assessore Cavallera dell'invito e a voi tutti per la presenza in prima sereata, si dice così, anche se chiaramente questo non è forse il migliore dei programmi possibili, si parla di responsabilità e di responsabilità amministrative e quindi insomma probabilmente vi sono forme di intrattenimento migliore Io inizierei subito da qualche buona notizia perché di solito quando interviene l'avvocato le notizie non sono mai buone o si cerca di fare in modo che non diventino del tutto cattive l'istituto della responsabilità amministrativa è stato recentemente oggetto di una riforma o meglio di un intervento da parte del legislatore in sede di decreto cosiddetto semplificazioni il decreto 76 del 2020 convertito in legge con modificazione dalla legge 120 del 2020 che all'articolo 21 ha innalzato il livello dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, diciamo così per virtù inversamente proporzionale, abbassando il livello della responsabilità amministrativa stessa. Sul punto tornerò, era un modo come un altro per farvi vedere subito l'assassino e arrivare insieme a capire chi è effettivamente colui il quale riuscirà a scoprire questo assassino stesso. La responsabilità amministrativa è diventata negli ultimi anni diciamocela tutta il timore, la preoccupazione probabilmente maggiore per tutti coloro i quali operano all'interno della pubblica amministrazione, i cosiddetti agenti pubblici. Perché parto di qui? Perché nella misura in cui parliamo di amministratori, ossia coloro i quali sono stati eletti dalla cittadinanza ovvero di dirigenti, di funzionari, di segretari coloro i quali invece espletano le loro funzioni all'interno delle amministrazioni per un rapporto di dipendenza o comunque un rapporto funzionale in realtà dal punto di vista della responsabilità amministrativa parliamo della stessa identica cosa cioè sono tutti soggetti legati all'amministrazione pubblica, quella di appartenenza ma anche altre amministrazioni, da uno dei cinque elementi costitutivi della responsabilità amministrativa cioè il cosiddetto rapporto di servizio. Ecco allora la centralità del tema. Ebbene voi dovete sapere che come noto quando si parla di responsabilità amministrativa nel lagone giudiziario il pubblico ministero erariale cioè il magistrato all'interno della procura regionale della Corte dei Conti che espletta esercita l'azione contabile combatte col difensore del presunto responsabile proprio nel senso da parte del PM dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali tutti e cinque da parte dell'avvocato dimostrare che ne manca almeno uno. Ecco quando si parla di amministratori quindi sindaci consiglieri assessori si parla di soggetti che già sul primo elemento essenziale e qui iniziamo con le cattive notizie hanno ben poco a che ridire. Sono legati all'amministrazione dal rapporto di servizio al pari di un dirigente, di un funzionario, di un dipendente pubblico e come tali su questo aspetto certamente non potranno far leva. Addirittura voi pensate che non possono far leva sul rapporto di servizio e anche coloro i quali sono stati nominati come amministratori responsabili o comunque diciamo come rappresentanti degli enti all'interno delle società pubbliche. Ma adesso non allarghiamo troppo il tema. Quindi primo problema il rapporto di servizio. Tutti gli amministratori hanno un rapporto di servizio con l'ente all'interno del quale i organi rappresentativi sono stati eletti e quindi il rapporto di servizio c'è sempre. Secondo problema l'illecito, l'antigiuridicità, il secondo elemento essenziale. Che cos'è? Ebbene è quel comportamento antigiuridico che deve sussistere affinché vi sia la responsabilità amministrativa e che consiste nella violazione di norme, prassi, comportamenti propri della funzione ricoperta, linee guida di quei comportamenti cioè che previsti da norme scritte oppure da prassi consolidate ci si aspetta inevitabilmente che un soggetto che opera all'interno della pubblica amministrazione rispetti. Il punto è molto importante. Bisogna scordarsi il discorso per cui ah ma io forse in virtù di quel che faccio posso anche non sapere. Nella giurisprudenza della Corte dei Conti vale un direi quasi prova contraria, diciamo una prova diabolica richiesta al presunto responsabile che è quella di riuscire a dimostrare in tutti i modi che non era nelle condizioni per sapere perché il punto di partenza da cui prende abbrivio la Procura, la Corte dei Conti è che non può non sapere. Il sindaco non può non sapere che. L'assessore non può non sapere che. Ecco, il punto è questo con naturalmente una serie di distinguo che occorre fare e quindi proseguo nell'ottica delle buone notizie. Primo distinguo. Nelle organi collegiali l'importante è cosa da sapersi grazie alla legge 20 del 1994 e che la responsabilità in generale ma quella amministrativa in particolare pertiene esclusivamente a coloro i quali hanno espresso voto favorevole. Quindi il mio consiglio non da professore ma da avvocato spesso è se non sei convinto, se addirittura sei contrario, non ti devi per forza allineare ma devi far valere la tua opinione contraria, meglio se verbalizzata. Tenete conto che parlare di voto favorevole vuol dire che l'astenuto non ha responsabilità amministrativa. Secondo aspetto che può essere utile sapere. Negli atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici e amministrativi la responsabilità si estende ai titolari degli organi politici soltanto nel caso in cui questi in buona fede li abbiano approvati, ovvero ne abbiano consentito l'esecuzione. Questo cosa vuol dire? Che se io sono in buona fede, se io approvo un atto, se io ne do soltanto l'autorizzazione o il consenso all'esecuzione, non sono responsabile. La cosiddetta esimente politica, qui prima faceva riferimento l'assessore Cavallera. Quindi un conto è la posizione dell'amministratore che come vedete, se posso dirlo in un certo modo non certamente giuridicamente qualificante ma facile da capire, possono non sapere quando la materia trattata è di particolare incidenza, importanza tecnico-amministrativa. Per esempio, se io decido di dare una certa sovvenzione e non so che quella somma non può essere oggetto di sovvenzione perché non pertiene al capitolo di bilancio per dare questo tipo di contributo, io politico che in buona fede ho dato il mio voto favorevole non potrò essere sul punto imputato di responsabilità amministrativa. Terzo elemento, il nesso di causalità. Quando decido devo sapere ciò che sto decidendo e quali sono le conseguenze che possono derivarne ai fini del bilancio del diminuzio patrimoni del mio ente. Che cos'è il nesso di causalità? La relazione che lega un certo atto o un certo fatto, ma noi questa sera soprattutto di atti parliamo, è l'evento dannoso che ne discende. Attenzione, deve essere una causalità adeguata, cioè chi decide, la gente, deve sapere che l'evento che ha causato con un'azione da lui determinata deve essere causato con un'azione adeguata, proporzionata, idonea ad arrecare l'evento stesso, cioè io non mi posso naturalmente far carico di tutti gli effetti straordinari o atipici del mio atto. Ecco, se poi quell'atto in sede esecutiva è stato eseguito male, non c'entra nulla che io l'abbia adottato come membro di giunta o come membro di consiglio, ne risponderà soltanto l'esecutore. E veniamo ai due elementi essenziali su cui spesso si gioca la partita. L'elemento oggettivo, il danno, e l'elemento soggettivo. Elemento oggettivo, dicevo prima, il danno. Che cos'è il danno per la responsabilità amministrativa? E la, scusate il latinetto, ma l'avvocato non ne può fare a meno, riferisco anche al collega Borasio, lo sa meglio di me, è la diminuzio patrimoni. Cioè il danno è una diminuzione della consistenza patrimoniale dell'ente di riferimento, il comune nel caso che mi sembra riguardare la maggior parte dei soggetti questa sera collegati. Deve essere cioè un danno che incide economicamente. Vi può essere l'azione posta in essere, contraria alle norme, contraria alle prassi che abbia causato quella determinata fattispecie, ma se non c'è il danno, come spesso si dice nelle aule della Corte dei Conti, dov'è la responsabilità amministrativa? Ecco che allora questo danno assume dal punto di vista della sua importanza posizione centrale. Tenete conto patrimoniale, cioè soldi, ma anche patrimonialmente valutabile. Per esempio il danno che ne scaturisce all'immagine dell'ente, laddove vi sia un reato cosiddetto proprio del funzionario pubblico, cioè contro la pubblica amministrazione, così come previsto dal codice penale. Quindi un danno che abbia una sua possibilità di valorizzazione patrimoniale. Danno che può essere diretto o indiretto. Il primo danno è molto difficile che sia arrecato dal cosiddetto politico amministratore. Cioè il danno diretto è quello che ha gionato direttamente all'ente per danneggiamento di beni. Che so, il chirurgo e l'anestesista che, impervorati dalla domenica calcistica, con una palletta giocano in sala chirurgica e sfasciano un presidio di particolare valore. Ne rispondono perché direttamente, non con l'uso proprio di quel bene, hanno arrecato danno all'amministrazione sanitaria. Molto più semplice è che il danno sia indiretto. Pensate a un triangolo dove mettiamo in testa l'amministrazione, ai due lati dei cateti mettiamo il dipendente e l'amministratore pubblico. Se, scusate, è il soggetto terzo, il cittadino. Se per fatto del dipendente dell'amministrazione, dell'amministratore pubblico, viene arrecato un danno al terzo, l'atto col quale si arreca al cittadino un determinato danno, il cittadino chiede il risarcimento alla pubblica amministrazione. Perché, come vedremo, nei confronti dell'amministrazione non deve dimostrare la colpa grave o il dolo. È sufficiente andare dal giudice civile e dire che ha subito un danno per mera colpa dell'amministrazione. L'amministrazione paga il cittadino. A questo punto il cittadino si vedrà ristorato del danno. Ma la pubblica amministrazione, avendo subito questo diminuzio patrimoni, potrà, mandando la denuncia di danno erradiale, chiedere alla procura contabile, di rivalersi nei confronti del dipendente. E allora, come vedete, il cerchio si chiude. Il cittadino va dall'amministrazione, l'amministrazione va dal dipendente e quindi il fatto arrecato dal dipendente o amministratore al cittadino ricadrà nelle tasche dirette dell'amministratore pubblico. Voi direte, ma è sufficiente che l'ente non dica nulla alla procura contabile. No, questo non può essere, perché esiste una norma del codice della giustizia contabile che onera i dipendenti pubblici e soprattutto i cosiddetti agenti pagatori, i dirigenti, i direttori, coloro i quali, cioè, assumono le posizioni di vertice, a inviare alla procura della Corte dei Conti la denuncia di danno erradiale ogni volta in cui, come nella fattispecie, devono pagare il terzo per un danno arrecato dalla pubblica amministrazione. Sarà poi il pubblico ministero a indagare e verificare se sussista la responsabilità amministrativa da parte dei soggetti che hanno adottato il comportamento causativo di danno. Ultimo elemento essenziale, quello già preannunziato, l'elemento psicologico. Tradizionalmente l'elemento psicologico è aggravato. Che cosa vuol dire? Il dipendente pubblico risponde per colpa grave o dolo. Il livello minimo, cioè, deve essere la colpa grave. Che cos'è la colpa grave? È una cosa grave o dovrebbe essere tale. La grave e inescusabile rimperizia, la straordinaria imprudenza, la superficialità imperdonabile, il disinteresse per il caso concreto, la trascuratezza per i propri compiti, funzioni, obblighi di servizio, l'evidente e ingiustificata violazione delle norme, delle prasse, degli ordini. Insomma, un comportamento che anche l'uomo della strada direbbe, eh beh, ma non l'avresti dovuto tenere. Avresti dovuto tenere alta l'attenzione e non incorrere un errore talmente grave. Come una valutazione che la legge richiede che venga fatta ex ante, che significa valuto quel comportamento non a tavolino anni dopo in cui è tutto facile, a mente fredda con tutti i documenti e ad esempio ben sapendo che cosa è successo dopo, ma mi devo mettere nell'ottica del soggetto che ha assunto la decisione nel momento in cui l'ha assunta, in quel contingente storico. Questo tipo di colpa grave dovrebbe già diminuire l'ansia che ha qualsiasi amministratore, dirigente, funzionario pubblico. Purtroppo l'ansia invece aumenta se uno prende in considerazione i precedenti, la giurisprudenza della Corte dei Conti, rendendosi conto come in realtà la Corte dei Conti molte volte considera integrata la colpa grave per fatti specie in cui magari non sembrano gravi, ma perché la Corte ritiene che per la funzione assunta da quell'agente pubblico, da quel soggetto legato dal rapporto di servizio, quindi dirigente, funzionario, ma anche amministratore pubblico, questi non potevano sapere che sarebbe in corso in una fattispecie di responsabilità amministrativa. L'altro elemento soggettivo è quello del dolo. Il dolo è un po' più confortante. Perché più confortante? Perché si tratta di quelle fattispecie in cui occorre dimostrare la coscienza di tenere un certo comportamento da parte dell'agente pubblico. E qui vengono le cosiddette buone notizie. Quella norma, l'articolo 21 che vi citavo all'inizio, del decreto 176 2020, convertito dalla legge 120 del 2020, prevede che fino al 31 dicembre 2021, ma forse le buone notizie non finiscono qui, la responsabilità amministrativa è limitata ai casi in cui il danno viene prodotto in conseguenza una condotta dolosamente voluta, dice la norma. E per dolosamente voluta si intende la condotta in cui deve essere provato che il dolo è avvenuto con la dimostrazione della volontà di arrecare quell'evento dannoso. Mi spiego, perché il giuridichese a volte è un po' ellittico, si attorciglia su se stesso. Il dolo per la responsabilità amministrativa non è dimostrare che è stato tenuto un certo comportamento o adottato un certo atto che ha provocato il danno, come una certa parte forse maggioritaria della giurisprudenza contabile negli ultimi anni si è attestata ad affermare. Allora capite che in quel caso è sufficiente dire Massimo Chiena ha concorso ad approvare quell'atto alzando la mano, quindi ha adottato quell'atto e quindi ha arrecato con dono il danno che ne è conseguito, perché era cosciente di approvare proprio quell'atto. La norma, l'articolo 21, richiede che la dimostrazione della sussistenza del dolo vada rispetto alla causazione dell'evento dannoso. Massimo Chiena ha approvato quell'atto già immaginandosi e diciamo essendo pienamente cosciente che quell'atto avrebbe provocato quel danno. Questa norma evidentemente segna un momento incoraggiante per coloro i quali, come gli amministratori, esercitano le loro funzioni non necessariamente provenendo da una carriera forense o da studi giuridici, ma possono avere altre esperienze che magari li fa sentire meno, come posso dire, percepibile la norma giuridica. Io devo approvare l'atto e quell'atto si deve provare che l'ho approvato con l'idea di causare il danno e solo per dolo. Voi direte già, bella notizia, fino al 31 dicembre di quest'anno, insomma pochi mesi e poi ricomincia la sarabanda. No, così è a norma scritta ma si fa insistente negli ultimi tempi la proroga di questa norma addirittura sino al 2026. Chiudo la mia parte di intervento nel dire una cosa che può sfuggire ma che è fondamentale, colta dalla mia esperienza diciamo così di avvocato, collega Borasi o meglio di me vi potrà dire. È fondamentale mettersi nell'ordine di idee che quando si partecipa alle sedute dei consigli delle giunte occorre prima documentarsi e studiare. Sono da questo punto di vista persimpe dante, però risulta assolutamente fondamentale questo aspetto. Secondo, per sedersi con l'animo ancor più sollevato, sottoscrivere una assicurazione per cosiddetta responsabilità amministrativa, cioè chiedere al proprio agente assicurativo di fiducia di sottoscrivere una assicurazione che copra per gli eventuali danni che nell'esercizio delle funzioni si possono arrecare al proprio aente. Vi posso assicurare che il sottoscritto, pur essendo un presunto esperto contabilista, avvocato e forse anche professore universitario, per i compiti che espleto all'interno delle pubbliche amministrazioni faccio l'estensione dell'assicurazione professionale alla colpa grave per le funzioni ricoperte all'interno degli enti, perché purtroppo può capitare di sbagliarsi e a quel punto uno affronta i problemi con, ripeto, animo più lieve e tranquillo. Vi ringrazio anche per il tempo maggiore concesso e sono a disposizione poi per allargare il discorso con tutti gli esempi del caso. Grazie a lei professore per il suo approfondimento, che veramente da una parte le dico da amministratore comunale un po' di ansia, ovviamente non che me la faccia venire lei perché purtroppo ormai ce l'abbiamo perennemente, però una serata tra amici me la stavo quasi dimenticando, in realtà purtroppo siamo tornati quei piedi fra terra, è evidente che comunque il fatto che oggi ci siano poche persone rimpunibili da fare gli amministratori comunali, probabilmente anche figlio di alcune normative che sotto il punto di vista, ha parlato anche della procura della Corte dei Conti che apre diversi fascicoli, molte volte purtroppo si implicano in situazioni spiacevoli, magari per lungo tempo, per poi nella maggior parte delle volte essere poi ovviamente senza alcuna accusa ecco, voglio dire in maniera diversa. Però adesso direi di passare, fare un passo avanti, passare con la dottoressa Francesca Ganci, segretaria generale della città di Alessandria, ma già Ugo ben prima ha ricordato gli incarichi che la dottoressa Ganci ha ricoperto non solo nella sua vita professionale, ma anche quella poi personale, la dottoressa Ganci è anche avvocato, quindi siamo direi in una serata tra avvocati, quindi il linguaggio per voi sicuramente è molto più semplice. Ecco però dottoressa, un po' per introdurre, oggi c'è un paradosso di fatto, è quello che poi il professor Occhiena ha in maniera molto approfondita, ha descritto, i nostri sindaci di fatto sono chiamati a compiere diversi atti puntuali, ecco, ma di vario genere e natura, quindi con carattere alcune volte esplicitamente tecnico e nel caso ne rispondono anche, invece però non hanno magari diversi poteri su altre azioni, ecco. Lei che da anni vive quello che è il mondo degli enti locali, un aspetto ovviamente su questo, richiamando quello che ha attentamente eh relazionato il professor Occhiena. Grazie dottoressa. Grazie a lei, buonasera a tutti, ehm mi rivolgo soprattutto agli amministratori o a coloro che ritengono di potersi a breve presentare e quindi ricoprire il ruolo, eh facendo i miei auguri a tutti, agli attuali e ai futuri, perché soprattutto la situazione di ehm disagio, chiamiamolo così, sotto il profilo economico che vivono gli enti, ehm non fanno altro che appesantire le responsabilità di gestione ehm per gli amministratori eh stessi, perché è veramente complesso eh portare, riuscire a portare avanti la una vita amministrativa e quindi soddisfare le esigenze della collettività amministrata quando le risorse sono veramente carenti. Eh mi ricollego un po' a quello che ha già detto il professore perché eh quella è la tematica lui l'ha ben introdotta anche al a largo paraggio. Eh io vorrei soprattutto eh richiamare a livello storico il decreto legislativo ventinove del novantatré eh semplicemente perché quello che ha introdotto la di mh la distinzione tra organi di eh gestione e organi di indirizzo politico amministrativo e questo è stata voluta eh questa distinzione in maniera molto netta, molto forte da parte del eh legislatore e poi via via ha trovato eh completa attuazione con le riforme cosiddette Bassanini con la legge centoventisette del novantasette e così via. Ma in verità eh quello che io eh mi sento di poter testimoniare è che questa separazione eh non ha mai trovato poi una ehm attuazione eh completa e e questo comporta poi forse la serie di eh maggiori responsabilità nel senso che un amministratore attento io sono fortunata in questo devo dire e perché ne ho incontrati parecchi un amministratore attento tiene ben distinta eh la funzione eh la funzione di indirizzo dalla funzione appunto eh di gestione. Eh prima col parere di legittimità espresso dal segretario comunale sulla delibera ehm il segretario stesso assumeva una particolare importanza sotto il profilo della garanzia dell'osservanza eh della legge e quindi c'era questa forma di tutela che veniva offerta ai politici ma il dottoressa Ganci un attimo ha inavvertitamente staccato il microfono. Mi sente? Adesso si prego. Non so come. Ok. Eh no dicevo eh che non esiste più il parere di legittimità che in qualche modo tutelava eh accompagnava gli amministratori nelle scelte ed è stato sostituito piuttosto dal parere di regolarità tecnico-amministrativa o contabile che viene espresso dai funzionari o dirigenti che sono responsabili eh degli atti ehm sotto il profilo appunto tecnico o contabile ma anche questo non non aiuta molto gli amministratori perché non basta ad un amministratore dire c'era un parere favorevole perché ognuno ehm gli organi siano monocratici che collegiali sono personalmente responsabili eh del voto che esprimono. Quindi approvare un atto ehm con dei pareri favorevoli non vuol dire de responsabilizzare eh totalmente l'amministratore ehm il quale deve essere sempre consapevole salvo che salvo che non eh si tratti di una materia talmente specialistica talmente eh tecnica eh per cui l'amministratore potrà anche ehm richiamare le le l'esimente della mancanza di specializzazione ma mai dell'incompetenza perché ehm richiamare la propria incompetenza non è un esimente innanzi al giudice contabile. Volevo ricordare ma così molto velocemente ehm quali sono quei tipi di responsabilità in cui possono incorrere eh eventualmente eh gli amministratori poco attenti eh cioè non non bisogna far paura assolutamente anzi io incoraggerei davvero eh tutti gli amministratori a a a osservare le leggi che poi il il segreto è tutto lì per amministrare bene quello di osservare le leggi e dicevo la responsabilità a parte quella penale come ha ben detto prima il professore eh occhiera eh abbiamo la responsabilità eh civile verso terzi e la responsabilità patrimoniale verso l'ente locale quindi questi sono i tipi di responsabilità che maggiormente eh purtroppo possono coinvolgere gli amministratori sono delle responsabilità patrimoniali entrambe eh la responsabilità civile meglio conosciuta come responsabilità extra contrattuale o aquiliana è la responsabilità che eh può eh coinvolgere chiunque qualunque fatto doloso colposo che cagiona ad altro un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno quindi eh l'elemento del dolo o della colpa determineranno poi eh la eh l'obbligatorietà di risarcimento del danno eh invece per quanto riguarda la responsabilità erariale verso l'ente locale questo deriva dall'articolo ventotto della costituzione dove stabilisce che proprio i funzionari e quindi anche gli amministratori locali perché eh vengono così equiparati sono direttamente responsabili dei danni che arregano a terzi. È chiaro che poi mh questo è compito in materia eh soprattutto eh del del della Corte dei Conti può andare a stabilire eh i diversi tipi di responsabilità. Per quanto riguarda le responsabilità ehm dei diversi organi eh del dell'ente locale ehm il Consiglio eh comunale partiamo dal Consiglio comunale e che è definito mh all'articolo quarantadue del testo unico eh due sette del duemila e quale l'organo per eccellenza di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Quindi da questa definizione eh si potrebbe anche pensare c'è un consigliere può quasi sentirsi de-responsabilizzato perché se io do soltanto l'indirizzo gli altri seguono probabilmente eh ho meno responsabilità ma così non è perché al secondo comma dell'articolo quarantadue sono elencati espressamente eh le eh le materie per le quali il Consiglio poi è chiamato a deliberare e come dicevo prima al di là di quelle che è l'espressione dei pareri se io delibero in atti importanti e se do il voto favorevole in atti importanti e fondamentali io in quel momento devo avere presente molto bene quale potrebbe essere la mia responsabilità nel dare quel voto. Questo non vuol dire ehm cioè non vorrei far preoccupare eccessivamente perché peggio ancora sarebbe la paralisi dell'organo deliberante per paura di esprimersi. Ehm come ben detto prima ehm il professore eh l'astenzione mh determina eh mancanza di responsabilità ma eh io mh sarei anche un attimo attento io amministratore io consigliere dall'astenermi quando l'assenzione serve a mantenere il numero legale cioè la validità della seduta perché in quel caso eh ne risponderò esattamente come gli amministratori che hanno dato il loro voto favorevole. Eh e qui rientriamo sempre nel campo del processo eh contabile. Eh dicevo che alcune delle materie quelle del comma due dell'articolo quarantadue ehm che sono mh che richiedono un'attenta riflessione al momento dell'espressione del voto sono la costituzione delle aziende eh speciali piuttosto che l'istituzione e l'ordinamento dei tributi oppure quando vengono dati degli indirizzi che devono essere osservati alle aziende pubbliche o ancora la contrazione di mutui o l'acquisto alienazione di immobili perché sono tutti atti sì di indirizzo ma eh che determinano come conseguenza una spesa certa che deve essere quindi oculata. Lo stesso vale per i componenti della giunta eh la giunta si ha delle competenze residuali ma proprio per questo ne ha molte più rispetto a quelle del consiglio perché tutte le competenze che non sono attribuite dalla legge al consiglio o ehm ai dirigenti ai funzionari rientrano quindi nelle competenze della giunta che compiono proprio i componenti della giunta degli atti che sostanzialmente sono degli atti amministrativi e non programmatici come il consiglio e gli atti amministrativi possono poi comportare del eh ovviamente eh responsabilità se adottati eh con ehm diciamo con leggerezza. Anche il sindaco quale organo monocratico eh le cui competenze sono elencate all'articolo cinquanta del testo unico può incorrere in responsabilità. per esempio nell'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti eh perché si possono anche ledere i diritti di terzi e i terzi possono anche ehm ottenere chiedere ottenere la condanna della pubblica amministrazione e questo poi può innescare anche il giudizio di responsabilità e nei confronti del dello stesso sindaco. Eh ancora fonti di responsabilità possono riguardare i poteri di vigilanza sulla organizzazione del comune. Ecco la mancata vigilanza può comportare ehm una pianta organica no? E che è veramente eh macroscopicamente spropositata rispetto alle esigenze delle dell'ente eh può comportare una responsabilità oppure se è sottodimensionata e quindi non in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini anche questa può essere fonte di responsabilità eh o l'attribuzione di incarichi dirigenziali eh ex articolo centodieci e centonove del del Puel. Quindi sono sono tante le materie insomma tutte quelle ehm per le quali gli organi sono chiamati a decidere e a deliberare ehm devono essere sempre eh valutate con con grande grande attenzione. Adesso mi sono distratta perché c'era un concetto che volevo ancora dire poi mi mi blocchi lei eh sindaco ehm che è quello del tipo di responsabilità nel senso la la responsabilità può essere parziaria o solidale quindi non sempre colpisce eh un unico soggetto ma può coinvolgere anche tutti i soggetti che hanno determinato eh la adozione di quell'atto quindi possono restare coinvolti eh i tecnici eh piuttosto che lo stesso segretario se ha avuto modo di esprimere il proprio parere ehm in questo è chiaramente è parziaria perché mh ciascuno risponde per la parte che ne ha avuto all'interno del procedimento eh mentre la responsabilità solidale si ha nel momento in cui eh vi è un illecito allora in questo caso chiunque non sarà ritenuto responsabile ed è chiaro che il privato ehm chiunque si dovesse rivalere anche la stessa corte dei conti nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili potrà rivalersi nei confronti di uno soltanto di essi e e poi questo soggetto si rivarrà nei confronti di tutti gli altri soggetti ritenuti ehm responsabili. Cosa dire? Eh sicuramente eh è auspicabile forse il ritorno al passato anche se non sembra una cosa mh carina da dirsi. Si parlava eh un attimo prima eh con il commendatore Cavallera eh del del Coreco. Sì forse ehm in quel periodo tra il Coreco e il parere dei mh di legittimità dei segretari comunali probabilmente gli atti riuscivano a ehm a rimanere diciamo eh integri rispetto al vaglio della Corte dei Conti. Eh cosa che invece mi mi rendo conto che oggi per per tanti motivi, per tanti passaggi eh non non si ha la stessa perfezione dell'atto, neanche la stessa cura eh che fino a qualche anno fa eh caratterizzava proprio gli atti amministrativi. Era un motivo d'orgoglio avere degli atti che fossero perfetti, ben formati. Eh era motivo d'orgoglio passare dalla Corte dei Conti e non eh subire alcun tipo di richiesta di chiarimento. Eh oggi mh parecchi atti anche perché la politica non ha ancora eh rinunciato totalmente alla eh all'idea di poter incidere in qualche maniera, in qualche misura su quegli atti eh purtroppo possono mh non riuscire a passare delle forche caudine della eh Corte dei Conti in in modo integro. Cioè un appiglio e spesso eh viene offerto per tante ragioni. Io mi mi fermerei qui ehm per non tediare troppo. Grazie. Grazie grazie a lei dottoressa perché essendo un webinar abbiamo anche dei tempi da rispettare e lei come il professore Ochiena siete stati come dico sempre efficaci ecco. abbiamo anche due domande. Inizierei però per il professore Ochiena per poi andare dall'amico Paolo Borasio eh abbiamo una domanda per il professore Ochiena e una per la dottoressa Ganci. Facciamo poi andare fiatra la dottoressa Ganci e quindi la la poniamo una domanda a professore Ochiena da parte del luogo tenente della Pisarda. Chiedo a professore Ochiena se la segnala se scusate le segnalazioni dovute ad ufficio dal dirigente alla Corte dei Conti sede giurisdizionale viene infatti in ogni caso qualsiasi sia l'importo oggetto del contendere del danno arrecato. Se vuole gliela rileggo. No no assolutamente anche perché svelerò l'arcano l'avevo vista in chat perché lei aveva detto potete scrivere. Ha capito? E allora intanto mi sono preparato. Ah ok. Sembra che io sappia tutto. Quella della dottoressa Ganci non è in chat e quindi lei non potrà trovarsi. Dottoressa la difendo io assolutamente a questo punto. Grazie. Un collega Borrasio con maggior utilità per lei. Alla domanda rispondo ahimè affermativamente. Cioè non vi è un limite di cosiddetto danno errariale per limitare o impedire l'obbligo, da parte dei soggetti che a quell'obbligo sono sottoposti di inviare alla competente procura contabile la denuncia di danno errariale. Infatti la norma nello specifico che l'articolo 52 del codice di giustizia contabile che dovrei conoscere perché in qualche parte ho anche dovuto scriverla perché facevo parte della commissione redigente prevede che i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni comunque questi denominati i dirigenti o i responsabili di servizi in relazione ai settori cui sono preposti sono tenuti laddove nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza che vi è stato un danno errariale a inviarne la denuncia alla competente corte dei conti. Ciò significa che ipoteticamente anche il danno errariale di duemila euro di mille euro deve essere segnalato alla procura. Ciò che cambia è il rito nel senso che laddove il presunto danno sia di entità fino a diecimila euro si applica un rito che si chiama monitorio articoli 131 e seguenti del codice particolarmente sollecito e diciamo abbreviato. L'altra possibilità laddove le somme non siano particolarmente elevate è quella di chiedere il cosiddetto rito abbreviato che dà quindi modo al presunto responsabile di previo accordo con il competente pubblico ministero che è stato dell'azione insegnito dal procuratore regionale accordarsi per il pagamento di una somma che deve avere diciamo così delle caratteristiche specifiche. In primo grado la somma non deve essere superiore al 50 per cento del presunto danno. Per parlarci chiaro di solito i procuratori regionali ritengono che una somma che si attesta sul 25 30 per cento quando il danno supera i 20 30 mila euro sia una somma che è degna di avere il parere favorevole. Per danni minori si può arrivare anche al 50 per cento però a quel punto diciamo sono somme che possono essere ragionevolmente pagate. Da questo punto di vista quindi diventa diciamo assolutamente fondamentale sapere che come posso dire non vi è cattiveria da parte degli uffici nel segnalare la notizia di Dan Ragnani perché ovviamente il legislatore per garantire che vengano segnalati i presunti danni prevede che laddove il danno si prescriva la prescrizione di cinque anni risponda del danno colui il quale pur avendone l'obbligo non l'ha segnalato alla competente procura contabile. Quindi non è che il dirigente sia cattivo al di là del fatto che esercita una propria funzione prescritta dalla legge ma ovviamente è tenuto a farlo e in più lo fa perché altrimenti ne risponde lui. Ecco questo è un aspetto fondamentale perché io credo fermamente e lo dico in quanto anche membro dell'amministrazione quella universitaria ma di cui faccio parte che nell'ottica della cosiddetta distinzione delle funzioni ne parlava bene il segretario Pocanzi e bisogna anche capire che le funzioni sono distinte ma l'ente è un tutt'uno l'organizzazione dell'ente un tutt'uno cioè spesse volte e qui lo dico da avvocato vedo che vi è una sorta di scollamento tra gli uffici e i rappresentanti politici ecco questo non ha da essere se una cosa buona aveva la riforma del 93 che citava Pocanzi il segretario era proprio quello di richiedere invece una sorta di legame tra le due componenti se una cosa cattiva invece a quella riforma beh forse non è una sola chissà quante ce ne sarebbero quindi mi taccio che meglio grazie mille professore ringraziamo nuovamente il loro tenente Raffisada per la domanda ci è fatto molto piacere passerei alla dottoressa Ganci chiedono anzi Raffisada scusate ci risponde grazie professore chiedono ritengo molto sostiva la sua riposta grazie eh dottoressa Ganci benissimo eh la domanda è questa i sindaci rispondono direttamente degli effetti di atti di gestione compiuti dai dirigenti nonostante la vigenza del principio di separazione tra indirizzo politico e gestionale io la rileggo no 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 grazie no no è un po' quello che abbiamo anche detto durante ecco avete anticipato sia lei che professore chiedono infatti prego avevo già in qualche misura fatto scenno eh la risposta è nì nel senso è che eh se l'atto di gestione è un atto che ehm è adottato l'esercizio delle proprie competenze dal dirigente esclusivamente dal dirigente ehm chiaramente il sindaco non ne risponde nonostante magari abbia dato un indirizzo poi sarà il dirigente a rispondere delle modalità adottate nell'eseguire l'indirizzo che è stato dato eh se invece è un atto che viene proposto dal dirigente al sindaco eh un atto munito dei prescritti pareri eh però eh che contiene palesemente delle irregolarità e il sindaco lo adotta sarà il sindaco che ne risponderà unitamente al dirigente quindi per gli atti adottati su proposta se l'atto è di esclusiva competenza del sindaco ne risponderà nella misura in cui l'atto non risponde ai canoni di eh regolarità sia sotto il profilo tecnico che amministrativo quindi c'è una responsabilità che può essere parziaria può essere personale e così come può essere solidale dipende dal tipo di atto che viene adottato grazie non è il paracadute dei dirigenti ecco ogni tanto perché purtroppo eh un po' di paura ogni tanto la si ha ecco eh magari prima di prendere qualche decisione eh ci si pensa tante volte però la paura in questi casi da qualche compreso anche stasera non è una debolezza ma è un punto a favore perché ti fa tornare magari più volte su determinate posizioni però io adesso direi di andare verso le conclusioni eh chi meglio eh di Paolo dell'avvocato Paolo Borasio eh assessore della della città di Alessandria già sindaco a Castelletto eh con Paolo ho un po' più di libertà ecco di di espressione e quindi mi permette di trovare con un già sindaco e eh un giorno così chiacchierando un po' lo stesso mi disse sì perché la politica la trasformazione che c'è stata negli ultimi anni comunque di fatto dove si è fatto credere al cittadino che eh l'organo di governo eh protempore ecco avesse il potere tra virgolette ovviamente di decidere fare un po' eh quel che voleva di fatto e questo eh ha messo anche gli stessi amministratori in un certo imbarazzo soprattutto chi non non dice che può fare tutto e di più eh con un tocco magico tanto meno perché ha un carattere fuote e poi diversamente quando si sconta con la realtà capisce che non è poi così semplice scontato come ci ha raccontato la dottoressa Ganci che forse lo tiene per esempio questa sera ma non mi dilungo a te Paolo la parola eh visto anche le considerazioni fatte in precedenza grazie Buonasera a tutti eh devo dire che eh gli argomenti sono stato sono tentato da toccare tantissimi temi quindi rischierei di di essere lunghissimo eh due o tre temi fondamentali il primo è ma per fare l'amministratore pubblico per fare il consigliere comunale per fare l'assessore ci vuole una preparazione eh una bellissima domanda perché perché come voi sapete chiunque può essere candidato soprattutto dello svolgere il ruolo di consigliere comunale e quindi di fatto altrimenti violeremmo la costituzione perché non sarebbe garantita parità a tutti di poter accedere a una carica pubblica ma in realtà se uno ha ascoltato con attenzione gli interventi dei relatori che mi hanno preceduto non ha non ha potuto benissimo rendersi conto che ogni volta che sia come consigliere comunale sia come assessore sia come sindaco alza la manina magica in consiglio o in giunta ovviamente dà quel gesto dicendo una serie di eventuali e possibili responsabilità tra cui quella appunto per danno possibile danno reale e quindi eh probabilmente credo che sarebbe opportuno quanto meno che tornassimo alle vecchie scuole di partito che sono venute meno in questi anni ma che erano quanto meno fondamentali nel preparare la classe politica a come dire a un certo modo di essere di fare e di preparazione eh devo anche dire e faccio qui un commento invece politico che l'antipolitica imperante che oggi attacca a più non posso eh gli amministratori pubblici delegittimandoli in tutti i modi possibili immaginabili a perché guadagnano troppo b perché eh spendono troppo e male eh eccetera eccetera ha delegittimato e reso ancora più complicata la possibilità per chiunque di noi di svolgere un ruolo politico attivo perché eh è troppo facile essere soggetti a critiche e eh conseguentemente anche a eventuali responsabilità in una situazione in cui il giustizialismo trionfa con grande serenità sul garantismo ormai perso. E' perduto in questo in questa nazione della quale facciamo parte se non fortunatamente per qualcuno che ancora eh lo difende con compassione e e e legittimo ardore. E questa è la prima considerazione che volevo fare. La seconda è eh relativa eh proprio alle responsabilità che eh gli amministratori possono avere e anche al ruolo che effettivamente svolgono perché dicevi bene Gianluca recentemente eh come comune di Alessandria ci siamo trovati a dover affrontare la realizzazione di un impianto di biogas non tanto distante da Alessandria ma va al Madonna che è una frazione in cui una società aveva fatto una legittima richiesta di poter realizzare un impianto di trattamento appunto e produzione di biogas. Ora la risposta cioè ciò che il cittadino immediatamente chiede è ma possibile che la parte politica è stata eletta e quindi non possa opporsi o o in caso che il cittadino sia d'accordo eh avallare una richiesta eh di un soggetto terzo che non sia gradita ai cittadini per x ragioni? Beh la risposta a mio sommessissimo avviso è no non può perché per potersi opporre alla realizzazione di qualsiasi eh impianto o o prendo la decisione che sia in contrasto con i diritti dei soggetti terzi che legittimamente richiedono devono esserci delle ragioni non solo politiche ma tecniche quindi se è il discorso io l'ho fatto in mille cinquecentosedi essendo veramente poco capito ma se io chiedo al comune di Alessandria di rilasciare il permesso di costruire un immobile eh su un determinato terreno se vi è una conformità urbanistica se non se rispetta le norme del piano regolatore se rispetta tutti i regolamenti comunali in merito che potestà a l'ente di respingere la richiesta di rilasciare il permesso di costruire? Nessuna ovviamente anche se magari ai cittadini di quella zona faccio un esempio ovviamente che non può essere ma tanto per farci capire quella casa costruita in quel determinato modo non piace. Ecco la stessa cosa vale per un impianto più eh grande come può essere del biogas. Non è che la politica si può alzare un giorno e dire no non ci piace tu pur perché i cittadini non lo vogliono e quindi siamo contrari per cui non si fa. Premesso che la competenza non è del comune ma è della provincia quindi ci sono diversi tipi di competenze in merito sulla decisione finale c'è una conferenza di servizi ma non voleva entrare troppo nel tecnico da questo punto di vista ma non è che l'amministrazione può opporsi e dire no politicamente e a quel punto il comune assume una posizione negativa perché l'abbiamo visto che la dottoressa Ganci può testimoniarlo perché era presente in giunta che i pareri tecnici che sono arrivati su quell'impianto da parte dei dirigenti del comune di Alessandria non erano tutti negativi qualcuno era anche positivo perché esempio la conformità urbanistica poi si può discutere ovviamente in qualche era possibile quindi c'era una conformità urbanistica e le relazioni dell'impianto quindi il parere del dirigente dell'urbanistica era favorevole alla realizzazione dell'impianto poi c'erano altri tipi di pareri che erano negativi per altre motivazioni non volevo addentrarmi a parlare delle motivazioni tecnici però se tutti i tecnici avessero espresso un parere positivo alla relazione dell'impianto politicamente l'amministrazione avrebbe voluto opporsi questa è la domanda è una domanda molto importante chiedo anche un un confronto e un un pre all'avvocato il professor Occhiena che è che ci ascolta perché è un è anche un motivo che dovrebbe far sì che dovrebbe farci domandare perché un una persona va a fare un amministratore pubblico fare un amministratore pubblico significa avallare sempre le richieste dei cittadini significa porsi comunque dalla parte del cittadino a prescindere che ci sia un legittimo interesse una legittima richiesta da parte di un soggetto terzo per la per la per vedere soddisfatto un proprio legittimo diritto ecco è alquanto difficile poter spiegare al cittadino che fare essere un politico essere un amministratore non ti porta a dover a poter soddisfare immediatamente completamente magari la volontà di cento cittadini che la vogliono legittimamente esercitare ecco ti hanno eletto e per cui si sentono in diritto di poterti tra virgolette imporre qualunque tipo di decisione non funziona ovviamente così ma questo è un aspetto che sul quale bisognerebbe informare maggiormente anche i cittadini perché da questo punto di vista altrimenti eh l'amministra l'amministratore è è sempre come dire un termine così un po' sotto scopa perché non riesce mai a uscire ad una logica positiva d'una logica negativa derivante dal fatto che comunque non sta facendo quello che i cittadini e quindi questo è un aspetto assolutamente importante che fa anche un po' il punto che si collega anche a ciò che dicevo prima cioè il politico chi va a fare che va a occupare un ruolo politico deve essere preparato queste cose le deve sapere deve sapere fin dove può arrivare e dove non può arrivare anche perché altrimenti il rischio è di emettere delibere eh o atti che poi si 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 dimostrano e diventano atti contrari alla legge e quindi che vanno conto oppure comunque vanno conto un interesse legittimo di un soggetto terzo e quindi questo ci vuole anche una preparazione eh chiudo perché il buon Ugo ha citato il caso eh Aral e eh non mi sottraggo a parlare seppur brevemente un aspetto e questo va sempre di pari passo con l'operazione che gli amministratori dovrebbero avere gli amministratori dovrebbero sapere che è una società che ad una società terza eh di cui sono soci i comuni eh non può esercitare una determinata attività tipo Aral la eh lo smaltimento dei rifiuti se non c'è un affidamento ma l'affidamento se non è fatto con gara deve essere fatto un affidamento in house e quindi con società che sostanzialmente rispondono eh alla corte dei conti e quindi c'è anche un maggiore controllo da questo punto di vista sull'operato della società fondamentale perché questo garantisce in qualche modo anche una maggiore legittimità degli atti che vengono adottati una maggiore attenzione nella nell'assumere atti che possono essere soggetti al vaglio poi della corte dei conti ma in qualche modo eh aiuta anche gli amministratori a rapportarsi e a operare eh in mezzo a una serie di norme molto più stringenti il comune di Alessandria e l'amministrazione della quale faccio parte si è trovato nella gestione una situazione alquanto difficile in cui una società fondata eh all'inizio degli anni duemila o poco oltre eh insomma ricordo esattamente l'anno di 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 in cui è stata creata Aral ma è stata fino al duemila e diciannove una società non che che trattava che smaltiva scusatemi i rifiuti di trenta due comuni dell'Alessandria o tra cui il comune dell'Alessandria senza aver avuto senza essere in house e senza nessuna gara per l'affidamento del servizio tanto per dirne una a caso con tutto ciò che ne ha conseguito in aggiunta a questo eh Aral si è trovata con eh adesso diversi procedimenti penali in essere a tarico di amministratori sindaci e quant'altro perché sono stati eh è stata vittima eh se vogliamo in 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 colpevole per certi versi di un traffico illesito di rifiuti che proveniva da variate zone della dell'Italia dove i rifiuti entravano con un codice uscivano con un altro e venivano stoccati eh senza essere trattati venivano stoccati nella discarica di solero che naturalmente in essere oppure portati non si sa bene dove ma comunque uscivano con codici diversi e da lì procedimenti penali a gogo davvero procura di Brescia e e poi un'altra serie di problematiche annesse connesse quindi anche in questo e chiudo per dire che eh essere amministratori preparati al di là del fatto che poi ci siano eh organi importanti di eh a sostegno come può essere il segretario comunale e e qua ringrazio dottoressa Ganci per per la sua professionalità e per quanto ha fatto un'aiuto al comune di Alessandria ma eh oppure di tecnici preparati dei dirigenti tutto serve ma alla fine se il sottoscritto che si avrebbe avuto le idee ben chiare di come funzionava prima avrebbe dovuto funzionare Aral e eh si fosse mosso in una certa logica in una certa direzione con l'aiuto di tutti per carità oggi Aral si troverebbe in una situazione alquanto più complicata di quella che già non è e ha potuto accedere a un piano di concordato pian piano sta pagando i debiti e mi pare che questo se è messo si chiude con un utile di oltre un milione di euro che per una società che perdeva milioni di euro forse l'unica società in Italia che perdeva milioni di euro nel trattamento e lo smaltimento dei rifiuti oggi quella società funziona molto bene e quindi e se è inconcordato non è si è riuscito a non farla fallire ma questo grazie all'opera di tutti quindi a maggior ragione e sempre torno al tema numero uno la preparazione degli amministratori è assolutamente eh fondante importante e fondamentale soprattutto a certi livelli ecco è assolutamente eh importante quindi non è così scontato che tutti possano accedere a un'attività amministrativa in maniera così serena e tranquilla salvo poi trovarsi a rispondere eventualmente per responsabilità eh o tortocollo e senza magari essere sufficientemente preparati vi ringrazio no grazie a te Paolo eh perché o te di essere stato nei tempi eh hai veramente reso reso l'idea della situazione che che ci cercando in questo momento e ti devo fare le congratulazioni anche pubblicamente sulla questione Aral che tu insieme alla giunta ovviamente di Alessandria i tecnici e i dirigenti avete saputo risolvere perché lì era una questione annosa non semplice ecco eh è la responsabilità degli amministratori locali e fanno parte anche di questi di queste funzioni di queste funzioni qua ecco eh però con grande responsabilità ecco mi ripeto eh e tanto entusiamo si cerca senza eh senza dubbio di andare avanti ecco ricordiamo siamo in una siamo in piena pandemia ecco con il covid-19 molti sindaci si sono presi delle grosse responsabilità eh con proprio ordinanze o comunque con eh con dei provvedimenti ecco tali anche da limitare la libertà personale e magari in alcune volte anche oltremodo però è stato fatto giusto sbagliato però anche lì sono state prese delle responsabilità non indifferente quindi eh io come dico sempre ecco non l'ho mai fatto vedere in queste serate lo faccio vedere stasera dietro di me c'è il quadro di Castelletto con la testa e esce fuori il mio paese ecco il mio comune perché la passione quella c'è però come ha detto bene l'amico Paolo Boragio poi bisogna essere preparati non è semplice essere preparati eh se non lo si è perché magari hanno fatto studi diversi da quelli che si possono avvicinare ecco all'amministrazione pubblica o perché come ha detto bene Paolo comunque la posizione prevede che qualsiasi cittadino con diritto ovviamente di voto possa essere eh candidato e candidabile è anche vero però ritorna a quello che tu hai detto in premessa che molto probabilmente la politica di allora con i difetti che potevano essere paragonabili ovviamente a quelle che era l'epoca però di fatto eh aveva in sede le scuole di formazione che molte volte eh molti politici ecco anche nostrani eh sono usciti dal secondo grado di studi di livello poi eh facendo politica hanno fatto scuola di formazione poi magari si sono anche laureati ecco l'hanno aiutato io penso che poi fa che l'amministratore comunale io la mia piccola esperienza in un piccolo comune però credo di aver avuto anche la possibilità di imparare veramente tante tante cose in questi anni e ringrazio ai miei concittadini anche per questo per come vi ho ringraziati per per i voti che ovviamente eh dobbiamo andare a chiedere però ringrazio anche per l'esperienza ma sicuramente ti dai con una visione del mondo o del paese per rimanere in articolo però a trecentosessanta gradi eh io direi di andare a chiudere con eh poche conclusioni di Ugo però prima c'è ancora una domanda per il professore Chiena che la rimuove in chat quindi si è stato attenta è stato attento ha potuto un evento dove coinvolti più enti e relativi funzionari amministratori con ruoli diversi come si ripartiscono la responsabilità penso a un evento grave questo è Paola e mi è semplicissima la risposta non solo perché l'ho letta prima ma perché in pratica l'ha già data al segretario ganci la eh legge venti del millenocentanovantaquattro come ricordava il segretario prevede che la responsabilità amministrativa sia di natura parziaria cioè a eccezione dei casi in cui ricorre il dolo non c'è solidarietà nel debito quindi nel danno ergo vuol dire che se non c'è dolo ognuno risponde pro quota per la parte di danno che ha concorso a realizzare quindi di solito la fetta più grande la si individua in capo al soggetto che per le funzioni espletate avrebbe dovuto impedire il danno e quindi a scendere ehm finisco con la nota di conforto la cosiddetta esimente politica porta l'avvocato devo dire spesse volte seguito poi dai giudici in sentenza a far valere la seguente difesa ma insomma eh aveva pazienza presidente in fondo è un sindaco è un assessore è un consigliere che ne sapeva lui o lei che detto così può sembrare male perché sembra quasi che io eh contrariamente a quello che giustamente diceva l'avvocato Borasio parte dal presupposto che uno può non sapere ma in questo caso ogni tanto non sapere non fa male vi ringrazio della vostra attenzione ma ehm quello che vorrei comunicare è esattamente l'opposto occorre sapere ecco essere molto sul pezzo di nuovo grazie davvero di avermi ospitato grazie a lei professore è stato un grande piacere veramente averla qua insieme alla nostra dottoressa Ganci e l'amico avvocato Paolo Borasio Ugo una rapida conclusione e ce la prestiamo quindi ad augurarsi la buonanotte grazie accendi accendi il microfono Ugo anche questa sera abbiamo centrato all'obiettivo no che di esporre tematiche complesse però con una terminologia che pur nel loro contenuto anche tecnico e giuridico però eh ritengo che siano state eh molto comprensibili e poi insomma sti amministratori locali eh si rendono conto eh di cosa eh stanno facendo giustamente il consiglio che è stato dato che io personalmente ho sempre praticato ma questo qualunque cittadino dovrebbe farlo nelle nelle sue cose eh di leggere quello che si va a deliberare o quello che si va a firmare ecco questo è un è un punto fondamentale perché nessuno è tuttologo nel momento in cui io leggo un documento e ho varie tematiche sociali tecniche amministrative e di altra natura posso poi domandare no ferma un attimo l'atto riferiscimi tu che fai l'istruttorio oppure acquisiamo un parere quando è complesso perché se c'è questa cautela ovviamente eh si può poi dopo veramente esporre la un comportamento che umanamente eh diciamo può essere apprezzato che naturalmente vede eh l'impegno dell'amministratore che a cui è dato di assumere la decisione che comunque ha fatto tutto quello che poteva per assumerla a ragion veduta quindi conoscere per deliberare eh direi che eh un'altra considerazione eh molto importante da fare è quella eh che forse viene un po' sottovalutata riguarda le società partecipate alle società in controllo pubblico no? Eh poi ci sono i consorzi no? Che sono ancora lì un po' nel limbo nel consorzio di amministratore dei consorzi non beccano un centesimo però essi assumano le le responsabilità no mi sembra di capire come eh come gli altri perché questa non è certamente una un esimente ma quelle e le società in controllo pubblico eh da quello che ho capito hanno eh da rispettare essendo società eh di diritto privato no? Tutto quelle che sono le normative che competono alle società che operano nel mercato dei servizi però hanno anche poi eh se c'è il controllo pubblico eh l'intervento la vigilanza e l'azione eh eventuale della Corte dei Conti abbiamo un po' eh forse non eh approfondito il ruolo del dei revisori no? Del collegio dei revisori comunque insomma abbiamo già io ho tratto anche alcune eh alcuni spunti per fare magari una 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 seconda puntata no? Di questa eh diciamo di questo su questa tematica magari impostandola eh di più con la presenza del relatore da sperando nella loro contando nella loro disponibilità ma magari anche con qualche eh intervento diretto eh dal campo di battaglia con degli amministratori coinvolti che possono si può magari concordare anche una serie qualche caso emblematico ad esempio è stato molto importante ciò che ha ha illustrato l'assessore Borrasio no? Soprattutto per gli Alessandrini perché a un certo punto sia sia per quanto riguarda eh il biometano no? Che era sui ancora sui giornali quasi tutti i giorni sia anche per Aral no? Riesci poi a vedere eh diciamo la questione in radiografia non solo nell'aspetto così eh epidermico. Comunque al di là di questo eh veramente un ringraziamento eh al professor Ochiena eh alla dottoressa Ganci e al assessore Borrasio e ancora a Gianluca per il suo coordinamento impeccabile del dibattito e un saluto a tutti coloro che tramite eh zoom eh tramite Facebook ci hanno seguito. Grazie e buonasera. Buonasera a tutti.